carissimi fratelli e sorelle amici buona giornata dio vi benedica continuiamo a leggere dal libro di reggi vims sulle ali della preghiera il titolo del paragrafo da cui leggeremo stamattina è pregare secondo la volontà di dio scrive l'autore ognuno di noi può trovare soddisfazione ed esaudimento nella preghiera scoprendo qual è la volontà di dio rivelata nelle scritture e individuando verso chi o che cosa il signore ci fa sentire la sua compassione non tutti pregheranno per la stessa cosa o le medesime persone non si troverà nessuno che abbia la stessa vita di preghiera di un altro dio equipaggia i credenti in modo diverso e attraverso di loro intende stendere il regno dei cieli secondo il suo progetto sovrano i tuoi sogni interessi ed espirazioni devono allinearsi con quelli del signore ciò renderà speciale la tua devozione spirituale è buono incontrare il signore insieme con altri credenti ma bisogna anche accostarsi a lui individualmente lontano dall'influenza di altre persone dai rumori della vita possiamo sentire la voce di dio ai palpiti del nostro cuore la voce di dio unitamente ai nostri cuori arresi corrisponde alla sua volontà che si esprime nelle nostre suppliche e ciò produce una vita di preghiera efficace come possiamo sapere con certezza qual è la volontà di dio giacomo afferma che spesso le preghiere non trovano risposta perché si chiede secondo la propria volontà nel capitolo 4 scrive che un cuore pieno d'amore per sé e per il mondo concepisce preghiere che restano inascoltate nei versi 2 e 3 è scritto infatti voi bramate non avete e tra l'altro domandate non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri c'è però un modo per pregare secondo la volontà di dio e avere così successo nel nell'intercessione spesso molte preghiere sono come fiori recisi disposti in bei vasi e collocati in ambienti splendidi ma di breve durata la preghiera che invece affonda le radici nel terreno della parola di dio produce una devozione spirituale ricca e sensibile ai propositi divini la garanzia di un raccolto abbondante nella preghiera risiede nel terreno in cui si piantano le richieste la bibbia il terreno che rivela la volontà la mente e il cuore di dio abbiamo già considerato che il signore desidera rispondere alle preghiere dei suoi figliuoli egli ama agire in nostro favore riempire la nostra vita di sé e delle sue benedizioni perché allora la nostra devozione spirituale a volte sembra arida artificiale come i fiori finti o recisi la risposta è che la preghiera è piena di vita quando emana dal cuore e dalla mente di dio il segreto di una vita di preghiera florida e scoprire cose il signore vuole che accada e poi pregare che la sua volontà si compia pregare nel nome di gesù significa pregare secondo la volontà di dio e in accordo con la sua parola il nome di gesù non è una formula magica che garantisce l'esaudimento della preghiera chi prega nel nome di gesù dichiara che le sue richieste sono conformi ai desideri di dio terminare una preghiera nel nome di gesù significa comprendere che tale preghiera deve corrispondere a chi è gesù e a ciò che egli vuole non è corretto terminare una preghiera nel nome di gesù se questa è contraria alla sua volontà d'altra parte non è sbagliato terminare una preghiera che corrisponde alla volontà di dio senza pronunciare le parole magiche tra virgolette nel nome di gesù la frase nel nome di gesù non serve a dio ma a noi ci ricorda che l'esaudimento della preghiera dipende dal chiedere in modo consono alla parola di dio al carattere di gesù la preghiera efficace identifica la volontà di dio e poi prega di conseguenza la volontà di dio è rivelata nella sua parola per raggiungere lo scopo che si prefigge la preghiera deve iniziare con le scritture e in questo modo mettiamo da parte la sapienza umana e cerchiamo la guida divina la preghiera si sposta così dalla nostra volontà alla volontà di dio comincia con la parola di dio anziché con la nostra parola la preghiera efficace ha origine in dio e nella sua parola ti capita di andare in preghiera senza sapere per cosa pregare il tempo che trascorri nel raccoglimento è breve perché non riesci a riempire il silenzio in questo caso forse stai guardando alla preghiera da un punto di vista umano non attraverso la lente dei pensieri di dio la preghiera non è qualcosa che devi inventare per ottenere l'attenzione divina non è un'impresa vaga in cui offri una moltitudine di richieste sperando che una sia ascoltata ed esaudita non meraviglia che tanti si scoraggino facilmente nel pregare ancora la preghiera non è il tentativo di ottenere l'attenzione del signore per qualcosa che ci sembra necessario dio già all'opera gesù disse giovanni 5 17 il padre mio opera fino ad ora e anche io opero dio all'opera da sempre possiamo vedere la sua mano nella creazione del mondo nel diluvio nell'esodo di israele accompagnato da piaghe prodigi nella risposta data ad elia tramite il fuoco talvolta dio è sembrato invisibile come nella situazione di estero nelle sofferenze di giobbe tuttavia la bibbia rimarca l'intervento salvifico di dio nella storia umana e la bibbia è centrata in dio e anche le nostre preghiere devono esserle le parole di gesù assicurano che il signore è sempre all'opera sia che lo vediamo sia che non lo vediamo in realtà gesù intendeva dire sono venuto perché l'opera di dio si possa compiere e per questo affermava con fiducia che il padre era con lui giovanni 8 29 ed egli operava sempre dove dio era all'opera ecco perché il padre richiarò questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto ha mai notato che tutte le preghiere di gesù hanno avuto una risposta la preghiera cristiana sale in altezza quanto più scende in profondità ed è per questo che la preghiera efficace vittoriosa gratificante soddisfatta affonda le radici nel terreno fertile della parola di dio preghiamo cari preghiamo come si conviene preghiamo ricercando la volontà di dio e sicuramente anche noi vedremo cose gloriose avvenire nella nostra vita nella nostra famiglia nelle comunità che frequentiamo e nei paesi dove viviamo che il signore ci aiuti ancora oggi cari dio ci benedica